benvenuto nel bazar atomico un podcast per imparare di tutto da chi ne sa più di tutti mistici scienziati imprenditori eroici maghi filosofi esploratori e artisti uomini e donne straordinarie selezionate per la potenza e la follia dei loro progetti indipendentemente dal numero di followers che hanno io sono davide francesco sada sono l'autore del best seller la felicità fa i soldi e dal 2010 dirigo l'accademia di formazione finanziaria money surfers la mia vita è sempre sembrata un bazar ho provato di tutto sono stato un wannabe rock star un giornalista un regista e persino un rampante marketing manager e nonostante mi sia sempre impegnato a fondo i risultati che ottenevo erano sempre scarsissimi caduto in depressione iniziai a divorare libri di self help un sacco di fuffa ma poi un giorno in uno di questi lessi una frase di jim ron frase che cambiò la mia vita per sempre non siamo altro che la media delle cinque persone che frequentiamo più spesso fu come un'esplosione atomica nella mia vita non accadeva nulla perché per un mix di superbia e paura di uscire dalla mia comfort zone sociale tendevo a fare tutto da solo o con le persone che conoscevo già quando mi sono imposto di incontrare e collaborare con uomini e donne straordinarie che non conoscevo ancora anche la mia vita è diventata altrettanto straordinaria per questo ho creato il bazar atomico un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo buone deflagrazioni benvenuti ospite di questa puntata è roberto parodi laureato nel 1987 in ingegneria meccanica al politecnico di torino ed è ex dirigente di banca estere è un giornalista e scrittore specializzato in libri di viaggio fa sia saggi che romanzi da un punto di vista professionale gran parte della sua carriera si è svolta come dirigente di banche estere tra cui chemical bank chal chais ma manattan bank eccetera eccetera jp morgan addirittura dove si è occupato di investment banking 15 dei punti di contatto insomma con il mio progetto money surfers ma a un certo punto gli spiegheremo cosa è successo nel 2012 decide di dedicarsi completamente alla scrittura e al giornalismo e fino al 2019 conduce sei stagioni di born to ride sulle sulle reti mediaset e diario della motocicletta su radio su rai 2 disponibile tuttora su rai play per tre anni è stato anche direttore responsabile della rivista riders oggi è anche content creator di successo clamoroso sui social già quasi 100 mila followers su tik tok più di 100 mila più di 120 mila quasi 130 mila su instagram fa viaggi esperienziali con i suoi followers con la moto insomma ha un podcast su spotify che si chiama chiedi alla strada ebbene sì è anche il fratello delle due parodi nazionali prima di iniziare l'episodio ti ricordo che il bazar atomico è prodotto dalla mia azienda di formazione finanziaria consapevole money surfers dove dal 2010 insegno la felicità che fa i soldi ebbene sì invertendo i fattori il risultato cambia di brutto ti ricordo anche che la regia è curata dal grande giovanni valentini qua di fianco a me videomaker raggiungibile su giovanni meno valentini puntocom che il nostro web wizard in studio è mario piccaluga anche lui grande perché oggi siamo molto milanesi quindi do del grande a tutto grande 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 fotografo raggiungibile su nobile digitale puntocom che il mio styling è curato dalla factory tiny adults e che in studio beviamo solo lui caffè carnera per chi ci guarda su youtube potete ammirare lo styling anche del packaging adesso un discorso serio ragazzi basta basta scherzare abbiamo scherzato sono passati quanti due anni e passa siamo alla terza stagione noi siamo stufi perché sappiamo che un botto di voi ascoltatori ci seguono ma non si iscrivono al canale youtube e nemmeno a quello di spotify oggi siamo andati a vedere duemila iscritti poco più di duemila su spotify vergogna 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 stiamo per chiudere questo disgraziato podcast perché no voi per colpa vostra che non ci volete iscrivere non mi volete iscrivere a questo podcast sul canale youtube quindi aiutateci perché noi per noi è veramente importante questione veramente di rispetto per il lavoro non mio che sia anche il mio perché non solo mio di tutti iscrivetevi qui nel canale veramente per progetti come questo sono azioni che magari per pigrizia qualcuno non fa ma che vogliono significano veramente tanto per tutti i professionisti che lavorano in questo progetto che sono molti di più rispetto a quelli che vedete perché oggi qui ne abbiamo ospite qualcuno abbiamo gabriele che si occupa delle clip che vedete sui social appena andato via finito poi c'è silvia c'è enrico che dietro del quinto e sempre ci lavora mi raccomando seguiteci e cliccate segui su youtube e su spotify ci contiamo basta adesso però rilassatevi e godetevi lo show che in questo caso sta veramente uno show visto l'ospite ciao roberto grazie per essere tornato da noi eccoci di nuovo sempre in forma no abbiamo chiuso la prima parte parlando di una cosa interessante c'è un mezzo mistero poi magari ho capito male io ma c'è un video che hai fatto sulla tesla e sul fatto che secondo te la tesla è destinata a fallire anche tutto il macro trend dell'elettrico che sembra un dogma oggi hai fatto un video in cui tra l'altro che io ho fatto in tempo a vedere lo vogliamo vedere non se non c'è più no no c'è c'è avevo letto che l'avevano levato no allora in realtà io ho fatto questo video che ha fatto un milione di visualizzazioni è venuto fuori un 3 un thread molto interessante nel giro di un paio di giorni ho ricevuto alcune osservazioni tecniche tecniche che perché nel video avevo detto alcune imprecisioni visto che a me dà un fastidio terribile dire delle imprecisioni allora ho tolto il video l'ho rimesso mi sono vestito in un altro modo per la cura e ho proprio detto ecco beh è uguale è lo stesso video e ho omesso di dire un paio di cose se vuoi lo ascoltiamo puoi mettere l'audio? si a audio ambiente l'80% resisto ai poteri forti elettrici e ripropongo integralmente il mio video sul fatto che la tesla è morta allora questi sono dati l'80% dei veicoli matricolati circola in città quindi è lì che dovremmo lavorare mobilità urbana tram trapolini elettrici da città leggeri quelli con tutti i vetri piccolini con minori prestazioni perché ogni sera arrivi a casa sicuramente non come la tesla quindi auto come la teslona modello x che pesa 2,4 tonnellate che sacramenta c'è cara la colonnina e se ne stanno poi 50 minuti nell'autogrill 5 metri di macchina aspettando la ricarica 140 mila euro ricarica però fate questo ragionamento se uso soltanto il supercharger altrimenti ci metto un'ora inaccettabile l'elettricità oggi costa 0,6-0,7 euro al kilowattora carica una tesla questo prima di Putin un kilowattora no 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 è di un mese fa e fate 500 chilometri peccato che 56 euro circa 31 litri e faccio gli stessi chilometri con un'auto a gasolio che fa 6 litri con un litro poco più del mio naftone qui eh con le palline da taxista vabbè ma non prendetevela con chi ha il naftone pensate che se oggi con uno schiocco di dita il 10 per cento del nostro circolante diventasse elettrico avremmo seri problemi ad alimentare primo per produrre quel sovrappiù di energia secondo per distribuirlo e si ragazzi anche se ve la caricate da casa visto che la maggioranza dei condomini non ha il cablaggio idoneo per supportare l'amperaggio delle colonnine basterebbero tre colonnine in un condominio per far saltare la luce e poi come produciamo quell'energia il 25 per cento è pulita ma il resto è fossile esattamente come il naftone qui e paradossalmente avendo funzionato per 40 anni complessivamente è più ecologica di una macchina moderna che viene costruita wow 40 il foot print è un'altra cosa interessante senza parlare dell'estrazione degli elementi delle batterie lo smaltimento quindi ragazzi se volete lasciate qui sotto i vostri commenti e anche le vostre inserzioni per vendere le vostre terre se vi affrettante 4-5 mila euro riuscite ancora a prenderne devo fare un giro sul mio naftone cos'è il naftone spiegaci il naftone è la range rover è un 2004 turbo diesel ma tu ieri avevi parcheggiato in crocetta si si io abito di ma io ieri sera tornando ho visto quella macchina cazzo guarda questa range rover ma non ci credo il naftone allora è un video che ha una quantità di dati dentro e di provocazioni enorme infatti ha fatto in the millions in the millions che nessuno aveva mai detto perché io ho un grande pregio che nessuno che quasi nessuno ha cioè io sono veramente ho un lusso sei libero parlando di lussi puoi dire quello che vuoi esattamente vero esattamente io sono uno dei pochi che può dire quello che vuole sempre senza evitare le querele cioè evitando le querele cosa che non mi è mai capitata ma io non devo rendere conto a nessuno ho le mie competenze i miei lavori e le mie cose ma non ho nessun tipo di vincolo e questa è una cosa incredibile né economico né politico né politico tant'è che io ho preso delle ho delle opinioni che si sono rivelate di sinistra io per esempio sono un sostenitore dei vaccini cosa che la sinistra e la destra invece guai adesso invece sono un sostenitore di molti punti di vista per esempio della destra beh ad esempio sei critico molto critico sulle ZTL esattamente sono un sostenitore d'altronde con la macchina che hai sono un sostenitore della forza pubblica della sicurezza della sicurezza di destra sono anarchico però hai fatto un video stupendo bellissimo che andrebbe fatto a vedere alle scuole sul 25 aprile beh certo con un punto di vista finalmente che mai cazzo si sentite esattamente mai quindi tornando alla Teslona poi parliamo anche del 25 aprile se vuoi la Teslona ecco in questo video dico un mucchio di cose che tanta gente o non ha interesse a dire o le pensa e non le dice ma vale anche per l'ID3 per la smart elettrica cioè il concetto è un po' lo stesso indipendentemente dalle tese l'elettrificazione effettivamente raccontata come ci hai raccontato tu c'è una dark side di tutto questo esattamente ma ci sono molte cose che bisogna te lo dico perché l'ospite prima di te giusto no? quello prima ancora è un giornalista molto autorevole che è molto critico sulle energie rinnovabili che salutiamo Ricco Mariutti e che ci ha raccontato delle cose in onda delle cose fuori onda che scoprirete accadranno nelle prossime settimane scandali pazzeschi sul mondo delle rinnovabili e che si rispecchiano molto in quello che dici te sull'elettrico è come se ma lo sappiamo io ho scritto anche un articolo e un video su Money Surfers dello scandalo degli investimenti green tu che hai lavorato in investimenti è la più grande fake news che c'è tutti fine scusate tutte le banche ti propongono investimenti green ESG nuovo protocollo non è vero ci sono le statistiche articoli di Bloomberg che lo dicono che non c'è un organismo terzo che misura quanto sei ESG tu quanto sei green se li danno da soli è un greenwashing un po' e la Tesla immessi quello che dici te si inserisce un po' in quella assolutamente io a quanto riguarda la Tesla a parte che mi sta sui marroni Elon Musk poi mi sta proprio sui marroni perché lo vedo come un personaggio che ha tantissimi soldi ma anche ha questa voglia di apparire di esternare di fare il guru non c'è bisogno di fare questi versi lui è stato tra quelli che hanno sviluppato Paypal che per me è una figata assoluta molto più della Tesla cioè riconosco i meriti di Elon Musk molto più su Paypal che sulla Tesla e la Tesla stessa secondo me è un pacco in questa misura nel senso che è ovvio che andiamo verso l'elettrificazione è ovvio che il naftone è una provocazione però la Tesla è una automobile vera normale con il motore elettrico ed è lì l'errore se tu vuoi fare dei mezzi elettrici devono essere dei mezzi elettrici non puoi prendere un mezzo a energia fossile e mettergli l'elettrico perché c'è un errore progettuale perché perché sul lungo trasferimento secondo me non ricorreremo mai a dei mezzi del genere totalmente elettrici perché altrimenti non potremmo più fare un mucchio di trasferimenti guarda io sono un viaggiatore internazionale overland voi non avete idea di quante zone del mondo non c'hanno manco la benzina e ci arrivi con le tanniche fermando i camion questi vogliono andare con l'elettrico cioè tra 10-15 anni le macchine non faranno più i mezzi l'unica è la Toyota che ha detto no io continuo a fare anche a benzina quindi stiamo parlando cioè mi sembra di sentir parlare una elite di ricconi che dicono sulla mia tavola potranno arrivare solo cose coltivate nel nostro giardinetto sì ma tutto il resto del mondo deve vivere in qualche modo quindi quindi la Tesla dovrà modificare lo farà perché non sono dei coglioni certamente ma la Teslona da due tonnellate e mezzo con la quale tu hai l'ambizione di girare l'Europa ma l'Europa magari riesce ancora ma prova ad andare in Russia ma non dico in Marocco che fa ridere manco trovi la benzina ecco allora focalizziamoci su quell'80% che io dico all'inizio del video l'80% dei mezzi circolanti io faccio così e guardiamo in questo momento tutti i mezzi che stanno circolando in Italia solo il 20% è sulle strade autostrade comunali statali il resto sta in città se andiamo a vedere le bolle di di CO2 di ossido di carbonio di polveri sono sottili sono in città quindi è lì che bisogna lavorare lasciate che la gente è una macchina di 5 metri esattamente non ha senso però allora la Tesla però è nata per il mercato americano questo è negabile dove l'urbanistica è completamente diversa dalla nostra e lì ha senso nella Bay Area ti serve una macchina come quella ti risolve tanti problemi però a New York ci sono i taxi e sono tutti ancora no ma infatti New York è l'eccezione in America perché è l'unica città dove si può girare anche coi mezzi però nella gran parte dell'America una macchina allora io sono arrivato a tanto così da comprare la Tesla poi ho fatto ragione mi sono trasferito a Como ho guardato come sono le strade per andare a ristoranti su in collina ma dove cazzo vai con la Tesla in Italia nei centri cittadini italiani una macchina da 5 metri 5 metri ragazzi e quindi alla fine sì è un po' una moda è l'iPhone delle macchine è un po' quello ti mette a posto la coscienza tra l'altro anche lì erroneamente perché come dicevo nel video ti mette a posto il 20% della coscienza perché l'80% della coscienza va a gasolio perché la centrale termoelettrica termoelettrica va a fossili qui però c'è un'altra precisazione importante da fare è vero che utilizzerà gran parte di mezzi di combustibili fossili però il combustibile fossile bruciato nella centrale termica lo gestisci meglio è molto più efficiente proprio per una questione di teorema di Carnot la macchina invece se lo facciamo bruciare nel motore a scoppio piccolo è molto più inquinante quindi apro un'altra parentesi sono totalmente d'accordo sono comunque un ingegnere meccanico quindi queste cose qua non posso sottovalutarle rivalutiamo il nucleare perché il nucleare è clamorosamente più efficiente più rispettoso di una porta apertissima di tutti gli altri forse una pala e una diga sono meglio però il fossile riesci a gestire tutti pensano a Chernobyl sì ma ragazzi Chernobyl andate su Sky a vedere su Netflix io pensano a Chernobyl perché è l'unico incidente quindi ti viene subito in mente è vero incidente ecco che infatti voi siete tutti più giovani di me ma quando c'era Chernobyl io stavo studiando ingegneria al Politecnico di Torino e avevo 22-23 anni ero al terzo anno al quarto anno e c'erano i miei colleghi ingegneri nucleari perché al tempo c'era l'ingegneria nucleare noi in Italia avevamo i migliori avevamo anche delle centrali all'avanguardia della Madonna e dopo due anni c'è stato il referendum unicamente focalizzato come reazione io non sono complottista anzi tutte le puntate io dico contro i complottisti sono contento anche tu sui vaccini e lo pensi come me e no volevo dire che invece probabilmente io lì lo sono cioè non è possibile che l'Italia sia stata così cogliona da farsi fottere un'avanguardia sul nucleare credo come sta avvenendo è avvenuto negli anni scorsi con la dipendenza dalla Russia lo dico non ho le prove ma potrebbe anche darsi che gli oligarchi abbiano forse foraggiato alcuni politici che forse hanno detto no non trapaniamo e cerchiamo il gas a casa nostra lo prendono dai russi così io mi faccio la casa nuova con i soldi di Putin forse la stessa cosa magari è caduta lì perché un'Italia indipendente energeticamente sta sul cazzo ai grossi imperi e soprattutto finché non ci saranno dei politici con la schiena dritta si può dire schiena dritta che non cedono alle corruzioni delle potenze estere allora lì forse forse qualcosa cambierà perché uno ci ha provato è morto l'hanno ucciso che è Mattei a combattere contro questa dinamica e contro le sette sorelle e quanti quanti sono oggi disposti a rischiare la vita per l'indipendenza energetica nel proprio paese ce la butto lì totalmente d'accordo perché è un po' quello certamente il nucleare la fissione nucleare perché la fusione è una di quelle cose che tutti amano citare da star trek sempre tra trent'anni una frase una frase di questo genere che è bellissima tra trent'anni qualcuno citerà la fusione nucleare e sarà ancora a livelli qui adesso e nessuno fa un cazzo come forse anche i motori a idrogeno si grillo ci sono anche i motori a idrogeno sono sempre là quando respirava dal tubo di scappamento quant'era era 25 anni fa gocciolava l'acqua ecco queste robe qua però sul nucleare bisogna veramente pensarci perché noi siamo l'unica nazione europea che non ha centrali nucleari per colpa anche l'Austria l'Austria aveva costruito un reattore nucleare e il giorno prima di aprirlo è stato bloccato a me di qualcuno peggio di noi il giorno prima il punto lì è partire ora cioè nel senso se ci sarebbe già sarebbe totalmente io credo che si debba senz'altro ovviamente io adesso non so i tempi di costruzione di una centrale nucleare dicono 10 anni ecco minimo 5 5 in Cina ecco 15 da noi però non c'è mica altra possibilità cioè senz'altro il nucleare sarà un'alternativa magari non sarà l'unica io sono un sostenitore delle energie alternative però bisogna guardarsi in faccia cioè non è che noi possiamo far andare avanti perché uno poi continua a pensare sempre al riscaldamento alla luce ma ci sono le aziende ci sono le cartiere devi far andare avanti cioè dico la cartiera perché la cartiera è un procedimento che ciuccia energia infatti Enrico Mariuti che è venuto qua abbiamo parlato della faccenda della cosiddetta reshoring cioè il fatto che visto che la Cina si è trasformata in una dittatura la Russia tra un po' è uguale alla Corea del Nord le aziende americane anche loro hanno iniziato a importare tanta mano d'opera e piano piano un processo lungo Biden ci ha messo non so quanti miliardi ho letto l'ho letto l'altro giorno e gli ho detto ma perché non lo facciamo che noi c'è un solo problema per fare l'industria prima devi avere l'energia noi non ce l'abbiamo certo cioè prima energia poi industria senza energia non fai un cazzo quindi ma se ti voglio chiedere ma i video che fai ho una domanda veramente di parte perché siccome anche io ogni tanto li faccio e ho una mia teoria faccio dei video scritti bene mi metto lì li monto bene mi immagino il titolo e hanno delle performance decenti poi vado non so mi viene in mente una roba accendo il cellulare la dico e performano di più senza che mi sia messo lì a scriverli a ragionare ti capita anche a te cioè i tuoi sono quelli che vanno di più è vero che sono quelli che cotti e mangiati più sporchi è vero è vero quello tra l'altro è anche un grosso limite perché io oltre a fare questi video qua che sono video di opinione io faccio anche poi dei video veri perché quando vado a fare le cose per la BMW per la Yamaha per un mucchio di altre cose che io faccio e con cui collaboro faccio poi dei video in cui monto monto le cose o magari anche altri operatori e vedo che nonostante siano comunque belli perché fanno sono fatti nello stesso modo con lo stesso ritmo con le battute ma però c'è anche magari la parte di drone la parte del ecco purtroppo noto che più il video è sporco e corto pazzesco sporco e corto fa il botto ma tira di più anche meno montato più è patinato e più è lungo e più lungo ci si può arrivare ma il patinato incredibile incredibile non sarà felice Giovanni che fa il videomaker stavo pensando ora devo reinventarmi ma è così ma come il fatto che sono morti i video così che noi guardiamo la televisione guardiamo i film così lo dico perché ci legge su spotify lui dice in orizzontale invece che in vertical certo landscape il landscape tanto amato e io dopo anni a fare tutte le scene in landscape così e dicendo adesso sposto un po' la telecamera così mi ritrovo queste robe qua che cacchio io mi chiedo quando sarà il primo film in verticale non l'hanno ancora girato però lì sono i cinema come fai a devi fare gli schermi che si girano infatti pare che avverseremo i cinema a soffietto pare che avatar 3 sia in verticale ecco lo voglio lo voglio girare io lo voglio girare io perché è pazzesco cioè così è niente quindi però è così è così è incredibile è come se la gente capisca quanto un messaggio sia autentico ma anche più che autentico urgenziale per te cioè che ti viene fuori sta roba è vero e lo vedono perché passa quindi sto algoritmo alla fine un po' c'ha ragione cazzo è incredibile è un algoritmo bastardo perché è bastardo non devi pensare non riesci a fregarlo se pensi troppo non lo freghi è vero cioè devi ragionare non devi ragionare ma per esempio devi essere libero animale adesso le faccio andando dietro proprio a quello che dici tu invece nell'evoluzione dei miei videini che prima erano fatti così con la camicia azzurra con il quadro dietro adesso va in giro adesso cammino cioè un po' in giardino un po' invece anche andando in giro mi sono reso conto che se cammino poi intanto il montaggio alla fine il ritmo è quello che mettetelo dal montaggio ma se faccio una roba mentre cammino mentre mi giro sembra che sia davvero quello che ho da dire più di quanto lo dico messo come un giornalista di Rai 1 che hai sempre il dubbio che ti sta che ti sta per fregare perché dice una cosa che magari si è scritto beh ma poi fai delle cose raga al limite non so del poetico spinto quando secondo me è un'opera d'arte adesso non voglio non voglio lisciarti il pelo perché lo faccio per tutti gli ospiti ma se no non sarebbero qua il video che hai fatto sulla roggia di Milano è pazzesco tu lo devi vedere lui praticamente va in giro e scopre che scopre insomma si scopre nel video che c'è una roggia che spunta nel centro di Milano la roggia Vettabbia roggia Vettabbia zona a vetra piazza vetra e lui lì forse avevi che moto avevi lì? avevo una Yamaha che era io ho fatto un anno con Yamaha e lì era sponsorizzato la segue segue la roggia questa è una roba che piace l'abbiateggio ma questo lo trovo su Instagram lo trovo anche su YouTube ma perché su YouTube cosa devo cercare? perché ho scritto roggia di Milano ma non viene roggia Vettabbia no no lì oddio se vai sul mio canale Roberto Parodi su YouTube trovi anche quello della roggia Vettabbia ma quella adesso la vediamo perché cosa succede? lui insegue la roggia che ovviamente essendo un paesaggio urbano si sotterra risale poi a un certo punto trovi degli animali selvatici un coniglietto è un trekking urbano meraviglioso sì poi ho fatto anche quello della martesana ma io mi domando ma chi ti segue riesce a seguirti in questi tuoi voli pindarici perché a volte sei molto cinico sì a volte sei molto poetico a volte sei molto sensibile a volte sei molto tranchant e io noto perché anche io un po' quell'atteggiamento lì di comunicazione che le persone addirittura tu pensa mi hanno scritto gente che ci segue su Moni Surface no Davide stai sbagliando perché quello che dici non è in linea con il tuo brand oramai avete costruito un brand sulla felicità non puoi essere incazzato che lanci gli occhiali ma perché se me ne frega a me del brand cioè io voglio essere autentico libero ma poi scusa tu leggeresti il libro una storia che sai già come va a finire esatto ma è bello seguire uno che ti spiazza mi domando che ti spiazza c'è qualcuno che magari a volte per alcuni video ti dice bello altri no beh no certo allora ovviamente ogni video è a sé e ho gente che li apprezza e gente che invece non li apprezza più il video diventa famoso paradossalmente più aumentano quelli che non lo apprezzano perché perché il video esce dal mio 600.000 follower che ho overall e va e va a finire da voi che non mi seguite e quindi e quindi chiaramente ci sono molti che dicono ma mi è capitato sto qua ma che cavolo vuole ma chi è chi l'ha mai visto tra l'altro dice anche delle cretinate quindi si esce dai miei follower mentre invece io per il primo non so adesso su Facebook i miei video fanno da 100 a 200.000 di media quindi io finché sto quanto budget ci metti sul video per farlo girare quanta budget non ho mai speso un penny ma proprio mai ah dai di la verità quanti euro ci metti a video al giorno ti rendi conto figa tutto organico Gabriele tutto organico io non ho mai speso un penny zero quindi questo algoritmo funziona cioè nel senso non è vero perché adesso c'è chi dice che Facebook e Instagram se non paghi non vai da nessuna parte allora dunque è vero in questo senso nel senso che se noi apriamo il nostro ristorante Roberto e compagni lì per farlo galleggiare dobbiamo investire lo vedo mia moglie che ha che ha che ha un sito di un'attività che è la sua attività di vendita abbigliamento e tutto per arrivare ai livelli che è che comunque non certo come 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 il sito della della pirelli ha dovuto investire per me non ha senso investire su su un mio video perché se io non sono in grado di fare io quello che dico e devo spingerlo con la pubblicità è meglio che cambi mestiere cioè se 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 il mio selling point è dammi un messaggio dammi un claim dammi un prodotto e te ne parlo io devo essere io che galleggio da solo se invece io sono il prodotto è ovvio che pago la pubblicità e quindi ci sta e ti capita mai di appunto fare dei video pensando questa è una roba che può spaccare perché sento che ne parlano in giro e seguo un trend cioè no io i trend non li seguo nel senso parlando di trend come non so il balletto piuttosto che io quelli non mi seguo anche perché insomma sono delle cose un po' da un po' da 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 giovincelli ti darebbero del boom però quando vedo qualcosa io sono dico sempre quello che che penso e non vado a fare le cose solo perché vedo che sono famose e che quindi sono in trend ma quando ho fatto quello di Briatore esatto ci stavo chiedendo la stessa cosa quello invece si ancora la realtà spieghiamo hai fatto un video io che io trovo buono quello lì lo sapevo io lo metterei alla biennale di venezia con tutto il rispetto perché nel senso poi ognuno fa quel cazzo ma non l'ho fatto per fare i numeri ecco allora cosa si fa un video dove roberto racconta in maniera satirica i nuovi ricchi cioè come neanche topo satirica proprio critica no no proprio mazzulando mazzulando senza citare il nome ma tutti sanno che appunto Briatore ha fatto questa nuova pizzeria come si chiama pizza sprint pizza pizza gobo non so non mi ricordo dove vendevano la pizza con sopra il pata negra esatto ok e giustamente Roberto dice ma perché allora non ci metti pure un po' di caviale visto che perché il pata negra sappiamo è un prodotto che è una non so una sublimazione della natura sono che necessita che necessita un esclusivo ma la cosa che ha fatto incazzare e che mi ha innescato il video non è certamente per fare i numeri perché comunque i numeri già li ho e non è che bisogna di dire oddio oddio devo fare un video che faccia i numeri io devo trovare qualcosa che 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 mi colpisca e con la quale io posso fare delle esternazioni che nelle quali credo poi gli metto delle battute che la rendono magari più divertente e più fruibile poi la sintetizzo per quanto riguarda quel video lì io ho notato una cosa che ancora una volta è collegata alla sciatteria con cui i giornalisti oggi fanno il loro mestiere che è una delle robe che io critico sempre cioè la sciatteria del giornalismo e la sciatteria era che in quel periodo era giugno saranno usciti 30 articoli su questa cosa che la pizza al patta negra costava 60 euro e tu dicevano voi spendereste 60 euro per una pizza al patta negra sarà buona non è quello il punto non è quello il punto il punto è che io se vado da Cracco da Carlo che è un amico quasi che siamo andati insieme anche a fare un giro in Inghilterra posso anche spendere lui la sua pizza la fa pagare 25 euro buona tra l'altro però lui ti fa pagare quella cifra perché la fa uno chef della madonna lui quindi Cracco esce dalle mani di Cracco comunque dal suo sous chef usa degli ingredienti meravigliosi ha una tecnica che ha consentito di arrivare a quella pizza e la paghi comunque 25 euro se io prendo una pizza normale e gli metto dentro una roba che costa 60 euro capito non è che quella pizza vale 60 euro probabilmente l'ho rovinata capito gli ho messo il tartufo di alba su sul pesce no sulla soglia e la fritta e ho rovinato sia il tartufo che la soglia e la fritta quindi ho fatto un video su quello un altro video che hai fatto bellissimo che dicendo che i tamari possono essere sia ricchi che poveri quella roba ho fatto ridere il tamaro ricco il tamaro povero il tamaro povero è così il tamaro ricco eccola cioè non è una questione di reddito interessante molto bello super pedagogico carino perché sentivo mia figlia fiammetta che ha 16 anni e che mi usava questi termini zanza maranza tamaro in modo completamente sbagliato facciamo chiarezza facciamo chiarezza e quindi il tamaro è una denominazione che non ha un collegamento economico e neanche generazionale cioè il tamaro è semplicemente ma non sei un po' intamarrita tutta la società se vuoi quello è un po' il problema cioè non ti senti un po' la riserva indiana cioè a promuovere un'eleganza una ricchezza non esibita ti dico io ho fatto un post su a me non me ne frega un cazzo di nessuno però non sono io non do giudizi però secondo me lo dico per te cioè tu Fedez Ferragni all'ennesima cazzo di foto sul jet privato io dico ma i veri ricchi una volta non si sapeva neanche che ce l'avevano minchia Agnelli andava a fare il bagno a Pantelleria e tornava indietro in giornata cioè giocava andava a giocare a golf in Scozia e tornava a St. Morris e tornava a Torino ma non si sarebbe mai fatto vedere era proprio il contrario ma non perché aveva paura era proprio il contrario io mi dico ma non c'è bisogno io sono pro aerei privati non me ne fotto un cazzo di tutti gli ambientalisti aboliamoli siete degli sfigati anche voi che credete che quella sia una roba che inquina no ognuno faccia quello che vuole ma farti la foto che è una foto che è uguale a un'altra ma solo che c'è ancora bisogno ma c'è ancora bisogno ma poi che bisogno c'è che ti dicono sei invidioso cioè se tu li critici anche te sicuramente a te non ti hanno scritto privatore sei invidioso perché tu non te la vuoi permettere poi non è vero poi a un certo punto dico ma perché vuoi fare il ricco con 60 euro cioè vuoi far vedere che sei ricco perché sono 60 euro quindi hai capito ecco lì io poi mentre faccio i video mi tiro fuori scuola by the way chiudo Fedez l'altro giorno l'ha detto lui è un fan di Fedez Gabriele ha detto ma anche a me è simpatico io l'adoro simpatico cazzo magari avessi i suoi followers tra tutti non è invidia non è invidia ecco sotto mi diranno sei invidioso perché lui ha il muschio selvaggio fa 100 mila views dove un milione di views no però ieri ha detto guarda non prendo più l'aero privato perché ho sono rotto il cazzo che mi criticano tutti che poi secondo me lo prende ma non si fa le foto perché secondo me se non lo prende più per le critiche è un coglione due volte perché non lo devi prendere prendilo anche perché te la vedi io una volta ero a Santo Domingo e ho beccato Cannavacciuolo che era sull'aereo con noi ovviamente era in first no? e proprio non ci sta esatto oh ti giuro la sala d'aspetto dell'aeroporto di Santo Domingo non dico che sarà tre volte è piccolissimo sì piccolissima entra lui dalla porta io l'ho visto subito poi come dici te si nota uno due tre almeno quaranta persone intorno lui è andato ha preso la corsia preferenziale per salire sull'aero salire sull'aero ma una persona una persona di quella notorietà non può prendere un aereo normale cioè ci sta che prende oppure lo può prendere io ho visto invece il Can il papà di di Lapo in economy su Milano New York però forse il cane meno famoso però un canavacciuolo che va in mezzo agli altri un Fedez non può andare in mezzo sì magari può andare in first però ma che lo prendano ma non è il tema quello è l'ostentazione come dici tu purtroppo perché cosa insegna le persone lo so allora ci sono tante cose cosa provoca la tua ostentazione sto lavorando molto su sta roba qua cioè che ce l'hai fatta perché sei sull'aero sto lavorando molto su questa roba qua che parte che è un po' anche collegata con la classe il video che ho che ho fatto sì certo cos'è una burinata e cos'è la classe perché lì parlando invece della cena da 160.000 euro di quell'altro piccio lì che mette il sale così e purtroppo alcune cose che ci siamo giocati col passare degli anni sono la mancanza di del libretto di istruzioni delle delle dritte delle norme che poi sono il primo a valutare se è il caso di continuare o no per esempio per quanto riguarda il mondo del vino ci sono un mucchio io sono anche un grande amante del mondo del vino ci sono un mucchio di norme e di usi che sono delle belinate ecco ma nell'educazione ce ne siamo perse ce ne siamo perse per colpa dei genitori cioè per colpa di quelli che hanno la mia età e che hanno dei figli che hanno 20 anni o 25 30 quello che è e per colpa dei genitori lo dico ma proprio lo dico e lo ridico incolpevoli ragazzi si sono trovati privi di basi e l'educazione sarebbe l'ultima cosa perché in fondo uno dice vabbè ma che cazzo non me ne frega ma con l'educazione siamo giocati anche un mucchio di altre cose che sono i principi che sono i principi che sono i valori perché non so perché perché quelli della mia età hanno avuto una vita molto più facile di tanti altri gruppi generazionali eppure deve essere stata una generazione che se l'è goduta lei la vita io faccio delle ipotesi antropologico e sociali che magari non saranno niente in terra però io vedo tanti ragazzi di 20 dai 20 ai 25 che mancano totalmente di questo tipo di insegnamenti che sono quelli che invece noi avevamo che ci davano i nostri genitori che ci dava la scuola che ci dava non dico il fatto di andare a fare il militare che possiamo parlarne o meno io non sono uno di quelli che dovete andare a fare il militare perché ormai la naia non ha più molto senso però i ragazzi che hanno quest'età hanno perso completamente queste cose e allora bisogna che qualcuno io sono ormai un vecchiaccio malefico ma io spero sempre che qualcuno che ha 30 anni invece che 60 colga quello che io dico e lo faccia anche lui e spieghi delle cose che sono fondamentali per vivere bene perché se io manco di alcuni dati che sono il fatto che io non è che devo diventare ricco e famoso per essere felice se io manco di dati del genere che non te li hanno insegnati e se tu hai ma forse perché i nostri genitori cioè i genitori di questi ragazzi hanno vissuto l'edonismo reganiano gli anni 90 di cui parlavamo nella puntata precedente il fatto di essere ricchi il fatto di ostentare di lavorare allora i loro figli dicono cacchio ma anch'io devo essere ricco devo avere la la urus devo avere la megan la macchina come cazzo si chiamano queste macchine e si perdono invece la soddisfazione personale di essere quello che tu sei di fare una cosa bene di essere capace a farla di aver imparato come si fa col tempo che ci vuole di essere diventato qualcuno col tempo che ci vuole oggi sto scrivendo un testo per un video andavo a cercare questa parola imprenditore sono tutti imprenditori imprenditori seriali ricorda buttalo seria perché anche sta cosa che non basta più fare un'azienda tante aziende imprenditore ma che lavoro fai imprenditore poi vedi hanno il 2% in un'attività di e-commerce su Airbnb su Alibaba e sei un imprenditore ai nostri tempi l'imprenditore ai nostri tempi ma anche uno che ha un carretto di gelati che uno dovrebbe dire orgogliosamente ho uno stramaledetto carretto di gelati vendo la frutta al mercato di Viale Papiniano no ti dicono imprenditore qui c'è un problema di fondo voglio far vedere delle robe che non sono tu invece devi essere orgoglioso di dire faccio il fruttarolo in Viale Papiniano e le mie pesche sono buone perché me le vado a trovare io cioè quello deve essere il valore e facendo il fruttarolo a parte che facendo il fruttarolo secondo me si guadagna delle cifre soprattutto a Milano prima di tutto e soprattutto in Papiniano prima di tutto e soprattutto in Papiniano quello deve essere la differenza che fa tra te e una sgallettata che ha una Lamborghini perché ha aperto OnlyFan wow no è così raga è così raga perché quella lì magari riesce a guadagnare centomila euro all'anno per qualche anno ma quella lì avrà dei problemi mentali a un certo punto a un certo punto avrai dei problemi mentali a fare OnlyFan allora caro Roberto è un gradino sotto fare la escort un gradino sotto io non sono abbastanza giovane perché prima hai detto 30 anni io ne ho già 47 perché se no mi candidavo a fare quella cosa che tu hai detto cioè di far diciamo l'ambasciatore di certi valori però qua mi ritorni ancora su un video anche io ho parlato di OnlyFans e sono andato a studiarmi ci sono già le ricerche scientifiche che dicono che chi come dire prostituisce tra virgolette il suo corpo o una sua identità alternativa difficilmente riesce a mantenere una salute psichica nel lungo periodo andate su money surfers instagram e c'è il video che si chiama si guadagna di più col trading o con OnlyFans faccio sto parallelismo e ecco sì è impressionante cioè lì c'è un tema psicologico tra l'altro di questo non ne parla nessuno tutti che dicono tutti dicono ma è morale o immorale ma che cazzo me ne frega che è morale morale io voglio sapere che cosa succede alla psiche di questa ragazza dopo perché tutto ciò che ti viene dato velocemente ti viene elevato velocemente ma secondo me è una legge naturale ma sai chi ma il problema anche lì è di un'altra puttanata di questi anni che è il politically correct è la cancel culture e che loro proprio la cancel culture è proprio tutta la culture loro cioè facendo la cancel culture vuol dire che tu cancelli tutta la culture cioè tu cancelli la storia che hai imparato e che nessuno dice che può essere colpa di Cristoforo Colombo se in America c'è stato un problema razziale e allora butti giù la statua di Cristoforo Colombo cioè stiamo scherzando allora il problema è il politically correct che ti impedisce di dire a una sgallettata che apre OnlyFan che è una cretina che è una cretina che sta buttando via il suo amor proprio per comprarsi dei vestiti di Prada con la scritta Prada qua davanti però non puoi dirlo non puoi dirlo come non puoi dire perché il suo corpo ed è la sua scelta il suo corpo come non puoi dire come io ho fatto un bel video sopra che si chiama il catcalling non puoi dire a quelle ragazzine che di nuovo non hanno una mamma che le incorca di botte non ce l'hanno perché quella mamma probabilmente si è andata a comprare le robe di Prada perché è una che ha la mia età e vuole comprare la roba di Prada se avesse una mamma che la incorca di botte quando lei esce fuori vestita con la minigonna col tacco a spillo che per la carità se deve salire in macchina e portarla al diciottesimo degli amici io non ho nessun problema la mia bimba ogni tanto si veste così non ho nessun problema ma se tu vestita così mi attraversi Quarto Giaro oppure la Comasina oppure Rozzano e se ti dicono a Bona a Mignotta così ma è tendata tendata di culo ancora perché mettersi così il fatto che tu possa farlo non è detto che sia intelligente farlo come se io esco lì con un mazzo di soldi così poi mi derubano esattamente lo mollo e mi danno giustamente del cretino ma sei cretino c'è la realpolitik e c'è il diritto delle donne di fare quello che vogliono che nessuno ti viene a toccare quindi tu puoi vestirti come vuoi ma devi avere buon senso quindi il catcalling nessuno va a difendere il catcalling però il catcalling visto che vive nella politica sociale normale in cui uno se ci va in giro viene guardato c'è tanta gente che non aspetta l'ora che di molestare di dar fastidio anche solo di farsi vedere perché poi alla base di chi ti fa catcalling che l'ho detto in quel video non c'è certo il fatto di poter tentare di sedurre la ragazza altrimenti non gli direi a mignotta quanto vuoi ecco c'è no eh allora spesso lo fai per gli amici che sono di contegge alla base c'è il fatto di dire esisto guardami tu che sei una bella ragazza non ti avrò mai non ti potrò mai avere perché sono un maranza che sta appoggiato al muretto nelle slums e tu ci giri vestita come Nicki Minaj e lui dice voglio esistere per un attimo e ti insulto quindi ti dico dove vai come seduzine no ma infatti è un tema culturale cioè non puoi pretendere che tutti quindi tu mamma di questa qua glielo devi dire glielo devi dire tu devi andare vestita come un palombaro quando fai ste robe perché altrimenti dieci ti dicono all'undicesimo ti tira anche in un portone e lì andiamo a ridere poi l'ospite prima di te ci raccontava ci raccontava che fa dei viaggi assurdi vai in Brasile eccetera vai in posti incredibili in Pakistan questo ospite che è venuto prima di te è un filosofo italiano ha scritto libri bellissimi sulle culture primordiali eccetera lui fa ovviamente cioè io non posso non potrei mai andare con la macchina fotografica in vista cioè devo sembrare nessuno ha mai detto ah ma quindi sei razzista quindi vuol dire tutti i pakistani sono ladri ah perché in Brasile allora nell'Amazzonia e poi ci ha proprio detto vabbè poi cambiamo discorso cioè è un tema anche quello cioè che c'è di male nel senso ovvio ci piacerebbe a tutti avere un popolo dove tutti gli uomini sono della stessa statura morale di Mattarella però non è così cazzo raga cioè la verità è questa ovvio ma forse è funzionale vestirsi in una determinata maniera sfidando la cosa ad una crescita culturale dell'uomo medio che purtroppo in Italia va detto è bestiale perché rispetto a altri paesi sono d'accordo c'è tanto da fare in Italia sull'uomo medio poi ci sono anche paesi dove appunto questo accade meno attaccandomi al discorso cioè vado a completare con un volo pindarico lunghissimo quello del fatto della mancanza di educazione che non è l'educazione di stare con i gomiti a tavola ma educazione è anche sapersi vestire e saper distinguere quando una è scema perché si veste troppo provocatrice e va nella slam esattamente come quello che non ha i valori e quindi casca quando va a vedere su TikTok quello che dice ma ma lo dice anche Elon Musk cioè un deficiente ma non studiate ma perché studiate Elon Musk ha detto pazzesco ma che bisogno c'è di studiare no lo leggevo ieri sto deficiente cioè lui ha delle aziende che sono state fatte da fior di ingegneri di Harvard che col piffero avrebbero inventato la sua stramaledetta Tesla col piffero e lui dice ma non studiate tra l'altro non studiate e non studiate cultura umanistica esattamente cioè un tema grosso che poi è quella che ti apre la mente guarda l'articolo che ho letto ieri proprio Zuckerberg o Zuckerberg non ho mai capito come cazzo si dice è andato ospita un podcast e ovviamente poi recentemente ha affrontato il tema della libertà di espressione perché Facebook ha censurato fior di cose Twitter ha escluso Trump si può essere d'accordo o meno e lui dice ragazzi io ho fatto una start up per fare cuccare le ragazze alle università ma certamente e mi son trovato che sono io che devo decidere che cosa è giusto nel mondo da dire no non ce la posso fare e l'articolo dice vi rendete conto il nostro mondo perché di questo stiamo parlando perché la Brexit è uscita è accaduta senza i social non avremmo avuto la Brexit Trump e il Capitol Hill senza i social media non li avremmo avuti quindi vuol dire che quell'uomo lì come lui e tanti altri hanno in mano i tecnocrati i cosiddetti che ringraziamo perché senza le loro cose non ci sarebbe neanche il tuo nuovo lavoro neanche il mio è il progresso però cazzo se avessero un minimo di cultura umanitaria in più umanistica umanistica umanitaria umanitaria sarebbe troppo e già ne abbiamo fin troppe anche lì anche lì ci sarebbe da dire non si potrebbe parlare c'è un filo più di cultura umanistica da autonomia di pensiero cioè la cultura umanistica da autonomia di pensiero queste persone sono tutte programmatori Elon Musk è un programmatore e adesso è padrone di un social media ma è un programmatore cioè non ha mai letto libri di filosofia non è una persona che ha una cultura della comunicazione il punto oggi sull'educazione è non tanto un'educazione per spiegare come pensare è per dare gli strumenti bravo per poi farsi il proprio pensiero però quella cosa lì è tantissimo non importa quale pensiero l'importante è la consapevolezza e la responsabilità anche certo non solo questo articolo citava anche il fatto magari tu non stai meglio di me sai quella faccenda poverina di questi bimbi che fosse in Thailand o in Indonesia sono rimasti intrappolati sottoterra nella grotta nella grotta e tutto il mondo ha fatto la gara solidale a dare un'idea per liberarli questi bambini Elon Musk aveva avuto l'idea di fare delle capsule d'acciaio e mandandole giù e gli indiani o che cazzo erano indonesiani non mi ricordo Thailandese Thailandese scusa no mi spiace non passano attraverso i cunicuri queste capsule l'idea è sbagliata e lui si è incazzato dicendo ma non è possibile che venga rifiutata la mia idea perché non c'è la flessibilità cioè quando tu sei un programmatore che sei abituato che ogni cosa che hai fatto hai trovato i finanziatori che ti hanno dato tutti i soldi che volevi sei diventato l'uomo più ricco del mondo effettivamente poi c'è un tema anche di ego che non riesci più a tenere in piedi però io non ho la soluzione e leggo come si anestetizza con la cultura umanistica eh lo so però è un po' come quando io dico a fiammetta adesso mi fischiava gli orecchi sicuramente la fiammetta è sempre la mia preda e la mia vittima smetti di stare attaccato al telefonino leggi un libro e dico leggi un fucking libro cioè come on un libro fiammetta è un libro ma dico adesso poi la polega fiammi che è anche una bimba intelligente peraltro non è una di quelle ovviamente poi è ovvio è il dna però ecco cioè io non ho la soluzione aspetta 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 puoi raccontare quella cosa che ti è accaduta a proposito di guardare il cellulare di quell'aneddoto di quella signora che ha perso ah si di quella dei 5 euro interessante eh si era un vecchio video quello che una volta ero in corso Buenos Aires e c'era e c'era il classico barbone davanti a a Uniqlo piuttosto che a Guess non so cosa e chiedeva i soldi e nessuno se lo filava e a un certo punto esce una signora e esce una signora dal negozio e lecca e stava rimettendo il resto non non voleva dare niente all'uomo e gli sono caduti 5 euro e e sono andati a finire lì e e il questo povero non li ha ciulati che tra l'altro avrebbe anche potuto perché nessuno l'aveva visto ha preso i 5 euro ha chiamato la signora la signora si è fermata ha visto sta scena ha detto oh gli ha lasciati i 5 euro non mi ricordo se gli ha dato anche qualcos'altro una scena che si è consumata in 10 secondi 20 ecco non l'ha vista nessuno il tema era sul naso nel telefono non l'ha vista nessuno tranne me che per un colpo di culo non avevo anch'io il naso piantato nel telefono io non è che voglio dire che sono esattamente come gli altri e mi sono perso questo gioiello di umanità di casualità di fiducia nel futuro perché uno dice il barbone mi avrà rubato tutto invece è stato il barbone a ridare i soldi ecco questa qua che si è riconvertita ed è più in avanti qualcuno stava guardando delle notizie che tipicamente sono tutte negative perché i giornali funzionano con come si dice il paradigma dell'incidente se c'è un incidente lo guardo si forma la fila anche dall'altra parte perché la disgrazia tira di più della buona notizia magari quello sta leggendo una notizia e sta pensando che mondo di merda e si è perso questa scena è incredibile meravigliosa esattamente così quindi tornando alla fiammetta e a tutti i ragazzi di oggi che si fanno abbindolare quando vedono questi guru che dicono ma non studiate fate il mio corso a Dubai a Dubai tutti a Dubai dove io vi insegno e poi degli schema Ponzi hai potente lo schema Ponzi che tu compri vendi delle robe mettendogli nella giacca gli ultimi perché poi è come lo schema dell'aereo Madoff e questi qua e poi chi sono quelli che ci cascano i più fragili quelli che andavano già male a scuola e quindi dicono ma ha ragione lui ma io non vado che cosa vado a fare a scuola quelli che non hanno una famiglia con magari una vecchia nonna che almeno lei dice oh ma che cacchio stai facendo ecco quelli lì ci cascano e magari mollano lo studio mollano magari una cerchia di amici si fanno abbindolare prendono i soldi dell'eredità della vecchia nonna che nel frattempo è morta e invece di comprare una cosa utile o magari il baracchino per i gelati per incominciare la nuova attività lo vanno a mettere nelle criptovalute e perdono tutto io tra l'altro godo perché abbiamo avuto questo periodo di ascesa assurda delle criptovalute e tu dice ma che cazzo e io già al tempo dicevo ma ragazzi ma come siete scemi nelle criptovalute avete gli stessi rischi degli asset più un altro cioè che non c'è la banca centrale che garantisce che tu hai un foglio con sopra scritto c'ho 100 lire non dico ho l'equivalente in oro perché l'equivalenza aurea ormai non c'è più però quantomeno me lo cambio in dollari va bene ti do mezzo dollaro ecco quindi ne avete due di rischi e infatti poi le criptovalute sono andate malissimo come possono essere andate male anche gli asset delle piccole medie aziende ecco delle PMI tu su cosa investi adesso invece ma io sono il re della diversificazione io diversifico alla grande ho i miei io sono un uomo del debito perché ho sempre fatto emissione di bond quindi preferisco ho una buona conoscenza sugli asset obbligazionari quindi tendo ad avere più obbligazionari che azionari perché perché l'obbligazionario comunque se lo cassettizzi arrivi alla fine e a meno che non vada a gambe all'aria l'emittente però lì c'è un rating e tutto ti riprendi tutto quello che hai messo ma sia bond statali e anche privati tutte e due privati vuol dire generale electric sì certo quindi quello poi comunque immobili anche beh allora poi i miei soldi personali a parte quelli cioè io sono partito così avevo tutti i liquidi in 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 asset così quindi o fondi o proprio anche asset e poi pian pianino ho incominciato a toglierli e a metterli in immobili ma per un motivo solo ho tre figli e quindi devo in qualche modo piazzare devo piazzare quindi adesso siamo arrivati a a un buon livello beh se li hai presi a Milano gli immobili hai fatto un affari da paura io sempre presi a Milano Milano pazzesca ragazzi pazzesca hai visto sta zona qua ed è una garanzia sta zona qua che è una zona terribile ma adesso qua di fianco dopo guarda se esci se hai tempo guardi sulla sinistra non so che cazzo hanno fatto una specie di building con una palestra a vista gigantesca pazzesca ma guarda una bellezza incredibile bella anche la gente che gira ti piace la Milano di oggi? sì da matti a me piace un casino io non potrei vengo da una città di provincia sono nato ad Alessandria lo dico sempre la mia R viene da Alessandria quindi non è la R da milanese così in Alessandria tutti parliamo con questa R qui per cui insomma non è nulla come anche a Parma a Parma stavo dicendo come anche a Parma non è che sia una cosa però la gente non lo sa perché non viaggia sta attaccata al televole e quindi non sa che basta spostarsi da Milano andare a Parma e tutti dicono parlano tutti così a Parma sì non è l'aristocratica non è l'aristocratica io poi magari ci marcio certo quando faccio il video sulla classe uso la R così però è così ti piace devo dire che insomma quando torno nella mia pur amata Alessandria vedo tanti limiti ecco che sono poi anche limiti mentali perché l'Alessandrino è come anch'io ho un'anima un po' dentro così è uno che tende a non fare tende a osservare tende a criticare a fare poi l'Alessandrino è molto caustico è molto cinico è anche simpatico io infatti vengo da questa tradizione un po' di presa per il culo da bar che è bellissima che è bellissima che è molto Alessandrina però purtroppo ahimè la nostra amata Alessandria come anche tante altre città di provincia risente un po' di questa lentezza di questa paura e di questa mancanza anche di opportunità perché nelle città che hanno due o tre grossi poli industriali poi tutto tutto parte e tutto si attacca invece non sempre che è quello che capita anche in meridione poi loro hanno anche tanti altri problemi di delinquenza e criminalità però poi è quello viaggi che vuoi fare che ti mancano che faresti dopo due anni del covid esatto esatto me ne manca perché non sei non hai appeso la moto al chiodo appeso il pneumatico al chiodo ci sono due viaggi che io voglio fare e che spero di poter fare che sono i due posti cioè il posto dove io non sono ancora andato non sono ancora andato in Australia mi manca l'Australia e visto che l'Australia ha una componente on the road pazzesca perché c'è il bush no e il fatto che è una continente un subcontinente con le strade ancora sterrate perché sono talmente lunghe ci passano questi camion con quattro rimorchi e io vorrei fare un coast to coast se vuoi in Australia con tutti i pericoli che ci sono in moto in moto ma tra l'altro ho visto che tu fai dei viaggi con i tuoi con la tua community con i tuoi followers è possibile? allora o me la sono inventata? no non te la sei inventata perché io ho visto che dicevi andremo in moto andremo in moto sì perché allora io adoro la Sardegna e allora mi ha contattato questo club che si chiama Wonder Italy che organizza questi viaggi e ha detto senti vieni anche tu suoni la chitarra andiamo a assaggiare tutte le robe e allora li supporto ma è abbastanza raro perché i miei viaggi overland quelli di cui parliamo prima sono viaggi impegnativi complicati anche pericolosini se vuoi ce ne sono stati molti anche decisamente pericolosi in posti pericolosi io ho fatto anche un video contro queste travel blogger che vanno a mettersi nei casini quindi non dovete pensare che io sostenga il viaggio comunque sia no il viaggio deve essere fatto con grande criterio con grande attenzione e con grande esperienza sempre sapendo un fatto che i pericoli anche se non li vai a cercare arrivano lo stesso quindi non è che se tu sei il grande alpinista che può permettersi di scalare l'Himalaya allora riesce a scalarla andrà nei casini anche lui ecco quindi certamente se sei la Piperno questa qua che è andata a fare la travel blogger in Iran è stata tre mesi in Iran tre mesi in Iran mandando contenuti che adesso si parla così di contenuti sulla condizione delle donne in Iran a un certo punto ha bussato la porta l'ha imposa per un orecchio e l'han tenuta cos'è 40 giorni in una prigione ora sei una donna sei da sola sei una ragazza anche intelligente perché sicuramente una che fa la travel blogger è una che già ha la testa bella è bello il fatto che invece di andare al nepenta vai a fare la travel blogger è bello è il sottile equilibrio tra coraggio e inconscienza però c'è una dose come le due vi ricordate le due Simone ecco anche loro andiamo in Siria ad aiutare cazzo io vengo dagli anni 70 in cui la gente andava a fare i brigatisti quindi c'era io capisco lo spirito politico vado a aiutare vado a fare ecco però di nuovo anche qua ci deve essere del criterio io i miei viaggi ho fatto ma l'Australia è così pericolosa ancora adesso no no io non stavo parlando dell'Australia stavo parlando in generale che i miei viaggi overland hanno attraversato io ho attraversato il Pakistan ho attraversato il Sudan ho attraversato delle parti dell'Etiopia sono andato a finire nel Waziristan che è una zona indipendente perché mi sono perso tra l'altro tra il Pakistan e l'Afghanistan da solo eri io e un altro in due lì proprio dove c'era Bin Laden quindi ed ero sono un uomo avevo 48 anni 3 4 lingue attento a tutto avevo già fatto mille viaggi e mi sono reso conto che ho fatto una cazzata ecco come è potuta accadere è accaduta per stanchezza no non ci sono i cartelli poi si sono scritti tutti in arabo ne abbiamo sbagliato ma non c'erano quando sono andato a fare quel giro quindi tornando alla povera Piperno che sono felice che l'abbiano liberata ecco queste cose qua bisogna fare molta attenzione lei e le due Simone poi anche il fatto che quando poi faccio magari un articolo oppure una roba tutti dicono abbiamo pagato non dovevamo pagare dico no meno male che abbiamo pagato stai scherzando e questa è la tua ambivalenza stai scherzando paghiamo cazzo paghiamo la liberiamo poi le facciamo un culo così no perché è così no è così non dovevamo pagare ma cosa sei scemo paghiamo e come ma paghiamo e come e speri anzi divulghiamo una storia che questa ragazza che è comunque una ragazza più furba di te che stai attaccato ai social ha fatto la cazzata cioè non facciamolo più anzi se io fossi il ministero di non so cosa direi cara amica vieni facciamo una collezione di video di educazione facendo autofitica il figlio al prodigo esatto ragazzi ho capito due o tre cose ma ve le spiego ma certo sono andato in una prigione iraniana mentre la incendiavano tra l'altro era dentro e ho avuto un'illuminazione e quella che ho voglia di condividerla con voi è condannata a morte è ancora là è quella mamma ed è condannata a morte pazzesco purtroppo io sono anche contrario se vuoi a tutte queste mascherate che io non ho mai capito e mi metto la fascetta e mi inginocchio e faccio così e dico e dico e canto l'inno con la cosa allora ragazzi si capisce che la gente questi giornalisti non sono mai usciti cazzo da Milano ma andate in Iran andate in Pakistan andate in Sudan andate in Somalia andate ma anche solo in Algeria sono stati in Algeria che sono tutti qui sono stati in Libia avevano appena ammazzato Gheddafi allora sono posti che queste robe ma manco le vengono a sapere cioè gliele deve dire uno oh guarda che la nazionale ha cantato cioè questi dico sperando che così con la fascetta forse l'Iran cambia qualcosa stiamo scherzando l'Iran è una dittatura teocratica dittatura teocratica come eravamo noi dittatura fascista era così credi che a Mussolini le abbia calato tanto poco che in America negli anni 30 qualcuno poteva dire ma Mussolini sbaglia mi metto contro Mussolini Mussolini ne fregava niente esattamente come non frega niente a queste dittature che tra l'altro non sono solo dittature sono anche collegate con la religione che come noi cattolici italiani ben sappiamo è ben più forte sono degli assoluti qualsiasi forza politica quindi questi paesi tanto come gli americani che metà in mala fede e metà per ingenuità pensano di avere esportato la democrazia guarda i casini che hanno fatto in Afghanistan e questo è un'idea non certo di destra quindi questo manifesta il mio eclettismo ecco il mio approccio questi paesi allora come devono fare allora che cosa devono fare ecco allora questi paesi sono indietro questo è proprio un mio punto di vista che ho scritto anche nell'ultimo libro ci sono tanti paesi che sono indietro 200 anni rispetto a noi che vogliamo andare a esportare la democrazia sono indietro 200 anni cioè loro sono al 1800 quando c'è stata la rivoluzione francese loro non hanno avuto la rivoluzione francese non hanno avuto gli Hitler e i Mussolini con i quali hanno combattuto non hanno avuto la Shoah non hanno avuto delle cose terribili che noi abbiamo avuto questi paesi con tutto il nostro supporto come potremmo supportare adesso l'Ucraina gli mandiamo i mortali devono fare il loro percorso non c'è altro modo le donne col velo secondo me hanno un potere enorme perché mi ricordo più quale politico ha detto quando le donne riusciranno a togliersi il velo crollerà l'Islam così come lo vediamo adesso diventerà come il protestantesimo come il cristianesimo quindi questa gente noi dobbiamo supportarla ma da fuori non possiamo né andare là con i carri armati come ha fatto gli americani né metterci le fascette perché non servono a un cazzo dobbiamo solo sperare che col nostro esempio con la nostra cultura con i nostri sistemi internet per esempio è fondamentale è stata fondamentale cioè quanto bene ha fatto Instagram per le donne iraniane ma io lo vedo perché io lo dico per un esempio ho avuto una storia con una ragazza russa l'estate scorsa e la cosa più figa che mi dice finalmente posso riaccedere a Instagram che da un lato è inquietante ma dall'altro visto dalla da là dice no perché è incredibile io vedo cosa succede di quali là è ovvio figli un'iraniana che vede come vivono a Milano le ragazze dice no ma anch'io voglio vivere quello è fondamentale non solo oscurato anche però comunque in qualche modo con le varie cose riescono quindi tornando a noi cioè questi posti devono questi popoli devono avere il percorso che abbiamo fatto noi devono farlo anche loro nel modo più giusto per loro come anche l'Africa l'Africa allora parodi tu che l'hai vista tu che l'hai vissuta io l'ho girata tutta da nord a sud da est a ovest più volte più di Ewan McGregor lo sai che Ewan McGregor ma Ewan McGregor lo sai ha fatto una roba ma lo sai tu che ha fatto stai scherzando io ho tutte le sue videocassette tutto ma lui l'ha fatta dentro un blister asettico con quattro Land Rover dietro però hanno mangiato le pecore appena sgozzate visto poi facciamo una puntata su quello che io ho mangiato in tutti i miei viaggi ecco allora l'Africa è una risorsa per noi enorme e gli africani non dovrebbero scappare saremo noi che a un certo punto dovremmo andare a chiedere aiuto all'Africa perché l'Africa è molto più ricca di noi a tutto quello che noi abbiamo bisogno però ragazzi anche lì cioè dobbiamo lasciare che loro si sviluppino da soli da soli che facciano il loro percorso sì le dinamiche sono un po' le stesse secondo me quelle che abbiamo raccontato nella prima puntata sull'indipendenza energetica italiana perché sicuramente è vero quello che dici tu è una lotta che devono fare loro ovvio secondo me che c'è tanto anche delle potenze straniere che foraggiano alimentano sopprimono magari realtà progressiste che vorrebbero sradicare la corruzione credo che sarebbe interessante indagare cosa c'è dietro se c'è veramente qualcuno che ha interessi affinché la situazione sia quella perché ci sono anche idee come queste fa più comodo un'Africa così o un'Africa consapevole a noi occidentali o ai cinesi ai cinesi soprattutto cinesi già dai miei primi viaggi in Africa li vedevo che costruivano le strade in Cina loro hanno incominciato i cinesi a costruire le strade in cambio delle autorizzazioni estrative anni anni 2006 quasi 20 anni fa c'erano già le pipeline di acqua acqua quindi sono avantissimo oramai erano già in Algeria erano già in Mauritania erano già in Western Sahara erano già in Guinea West Sahara sei stato anche tre volte sono stato in Niger allora è così devono arrivarci da soli ci sono delle situe che non hanno senso il fatto che per esempio la Francia stampi il franco coloniale francese il CFA è stampato a Parigi ed è la valuta che viene utilizzata nella West Africa quindi il Senegal il Mali e tante altre è ovvio che su queste cose qui si potrebbe fare tra l'altro per collegare le due puntate la Tesla essendo una macchina elettrica piena di batterie che hanno dentro hanno un sacco di materiali cavati fuori dalle fosfati dalle miniere francesi io mi ricordo durante il covid c'era il consiglio dell'amministrazione di Tesla che siccome c'era il covid non si poteva svolgere allora Elon Musk che è un coglione ma è anche un genio come spesso capita le due cose insieme hanno fatto il consiglio dell'amministrazione te lo ricordi nelle macchine nelle macchine i soci sono arrivati con le Tesla e si sono messi tipo drive in lui era sul palco e tutti i soci invece di applaudire suonavano i clacson cazzo mi ha colpito perché effettivamente a un certo punto tutti intervenivano che avevano una sorta di microfono dentro la macchina parlavano e poi lui rispondeva e uno già all'epoca disse è comunque noi che ci tacciamo di essere un'azienda etica perché lavora per diminuire il sugli scaldamento climatico le emissioni di CO2 dobbiamo stare attenti perché sappiamo benissimo che nelle miniere dove noi andiamo a prendere il materiale che servono per le nostre batterie c'è un problema gravissimo di lavoro minorile sfruttamento delle persone massacrante e lì ovviamente hanno poi glissato e di questo non ne parla nessuno pochissimi ne parlano di questo cioè ne viene fuori pochi di discorsi ovviamente il brand fa di tutto per beh ma questo è un problema di tutto il mondo dell'elettronica e dell'Apple cioè queste cose non non c'è uscita quindi viene taciuto da tutti io non posso farti andare via senza due cose la prima è sono cagate questa però la forma allora noi siamo tutti uomini e vogliamo diventare come te alla tua età no cosa dobbiamo perché oggi lui dice che figo come si cosa fai cosa fai per mantenerti ah per mantenermi in forma allora che routine hai allora uno niente due quando sento che sto veramente no veramente non faccio un cazzo quando sento dici che vai a correre esatto infatti due uno niente due quando periodicamente sento che proprio incomincio ad avere dei malini delle robe oppure mi sento che magari ho preso tre chili ecco allora ricorro e ricordo al fatto che io ero un maratoneta negli anni quando avevo 40 anni ho corso la maratona di New York ho corso la maratona di Milano ho corso due volte quindi insomma ho fatto 4-5 maratone mezze maratone diverse perché a 40 anni uno fa sempre queste cazzate sì sì perché è la crisi di mezza età eh così così e allora ho imparato a correre ho imparato a correre che è una roba che che se uno non che bisogna impararla interessante perché altrimenti corri male fai più fatica non riesci a ti strappi il cuore e poi esaurisci l'energia e correre è una tecnica è una tecnica molto a seconda del tipo di corsa che fai la corsa di resistenza deve essere imparata io l'ho imparata malamente non credere ero un modesto maratoneta molto modesto però ho finito tutte le mie maratone tutte le mie mezze tutte le mie mezze la mezza la correvo in due ore che non è un bel tempo un'ora un'ora e 40 un'ora e 50 la maratona la correvo in quattro ore quindi io correvo a 10 a 10 chilometri all'ora già il fatto che io ti dica la velocità in chilometri all'ora e non in metri e non in minuti al chilometro ti fa capire che non sono un vero maratoneta e questo chi è che ha motorista motorista io sono un motociclista quindi quando riesco a stare a 10 chilometri all'ora vado bene niente quindi faccio questo gioco a tennis e adesso fondo un partito anti padel che è un'altra delle mie guarda cosa c'avevo scritto qua negli appunti esatto perché era la domanda che avevo fatto ma ti pare che il paro si vada a giocare a padel adesso devo fare un video mi stanno troppo sul cazzo mi stanno troppo cioè il padel è il dopolavoro ferroviario del tennis si è così un dopolavoro è il dopolavoro cioè è così è il dopolavoro questi che fanno a lei lavorano all'Arthur Anderson e alla stessa misura del calcetto e del beach volley quindi lo possono scalare nelle spiagge lo impari in due settimane anzi forse in una settimana ma che cazzo è devi morire prima di imparare a giocare a tennis come a sciare ai miei tempi c'è un video bellissimo dello sciatore anni 60 forse uno dei miei migliori ogni anno lo ripropongo quando iniziano le vacanze in cui in cui racconto la fatica di imparare di imparare a sciare quando non c'erano i figli ma niente esatto non c'era il carving non c'era niente ma c'erano gli ski lift con le ancore c'erano gli scarponi con le stringhe sì 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 con gli elastici non c'erano gli ski stop tutti attaccati il cordellino il cordellino che quando cadevi cominciava a girarti come un elicottero del Vietnam perché non si staccava non potevi perdere lo ski era molto più grave perdere uno ski affittato che beccarselo su una tempia a rischiare di tagliarsi le vene o il collo il freddo non c'era il pile c'era solo la lana c'era solo la lana quindi tu ti mettevi le super pippo di lana e così allora il tutto il tutto con i maestri che con banfe di vim brulet dicevano e cannibale bam e ti deditavano delle banchette ecco questo era imparare a sciare e non ci mettevi tre settimane ci mettevi tre anni cioè tu prima di arrivare al livello di quelli dell'agonistica che saltellavano sulle gobbe del Moncrot hop 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 e tu lì orrendo a spazzaneve ecco ci mettevi tre anni dopo tre anni incominciavi ti chiamavano magari questa garetta questo slalomino lo puoi fare anche tu ma devi morire quindi io è vero che sono un po' un nonno militare guarda come sei lì con la pochette con la pochette però questo ti dava la consapevolezza e ti metteva alla prova padel no tu sei davvero uno sciatore sei davvero un tennista no perché ti sei rotti i coglioni dopo una settimana vaffanculo basta va a giocare a pallone va a giocare a pallone invece questi qui padel dopo tre botte per forza è come essere in spiaggia no così e quindi mi sta sul cazzo quindi padel non lo fai no mi sta sul cazzo presentemente e ultimissime ultimissime poi chiudiamo hai fatto un video che secondo me ti avrà beccato un sacco di haters perché a un certo punto destra e sinistra quello che ti dice la pecorina di destra perché lui non è d'accordo che la pecorina di destra lui piace e non è di destra quindi attenzione vabbè ovvio che era provocatorio e no volevo chiederti due cose no due perché una me ha già risposto gli psichedelici sono di destra o di sinistra perché ci sono dei tormentoni nostri quindi non so le LSD ah ok le funghi dunque beh vabbè allora il più classico è la bamba di destra e le canne di sinistra infatti gli psichedelici non li hai collocati dove allora i funghetti sono di sinistra ma infatti a parte la cocaina il funghetto è una roba di Salvatore se hai capito no di apertura della mente esattamente è un po' yoga quindi 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 direi che lo psichedelico sta a sinistra mentre invece mentre invece l'estasi calata in discoteca tu 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 di destra pesantemente che tra l'altro è psichedelico anche quello è bello è vero bravo è giusto che lega con i rave che sono di sinistra però vabbè poi lì è il divertimento è un micromondo il psichedelico cioè la psichedelico di destra e di sinistra ma si è come Gesù che nasce di destra poi avendo litigato con l'impero romano diventa di sinistra lui è tutto lui è tutto e invece la meditazione è di destra o di sinistra? la meditazione è di sinistra di sinistra no no assolutamente senza problemi senza dubbio minimo le spa però tutto ciò di destra destrissima con le escort ancora più di destra grandio io dico che andrei avanti tutta la sera ma giustamente siamo a Milano e quindi stringiamo Roberto dove ti troviamo? ovunque mi trovate sulle mie piattaforme no progetti per il futuro di solito si finisce così progetti per il futuro niente andare in vacanza in Australia quello in vacanza viaggio viaggio un viaggio è l'Australia l'altro viaggio è il ritorno dal Sudafrica perché io l'ho fatto da Milano a Cape Town sul lato est quindi Egitto Kenya Tanzania e vorrei ritornare su McGregor è partito dalla Scozia ti ha battuto sì beh sì ok è vero però McGregor non ha fatto la Libia non ha fatto la Libia si è legato d'Oss McGregor è partito da Alessandria d'Egitto noi abbiamo fatto la Libia l'anno che ha ucciso Gheddafi quindi ho scritto un libro solo su quei quattro giorni di attraversamento invece mi piacerebbe tornare su dalla Namibia dal Sudafrica lato quindi lato dell'Angola quindi Namibia l'ho fatta però Angola Congo Congo cos'è che ti porta in Africa continuamente perché io adoro l'Africa per cos'è che ti piace l'Africa allora innanzitutto è l'unico posto ancora veramente selvaggio del mondo quindi l'avventura la curiosità l'esperienza vera lì ce l'hai cioè ma hai proprio l'avventura vera poi adoro gli africani e questo spero che quelli che sicuramente tacciano di razzismo dato da perché li vuoi sfruttare esattamente esattamente per i tuoi conti esatto io adoro gli africani perché io sono un africano sono dei cazzari pigri hanno un senso del ritmo pazzesco sono simpaticissimi mi piacciono mi piacciono in un video tuo sono come me che caralto non è che anch'io lavoro tantissimo in un video mi faccio quei gran culi esatto l'ho visto in un video sì ma quello dei blogger che pure io non è che mi faccio gran culo però insomma quindi adoro gli africani non vedo l'ora di ritornare a fare un viaggio in Africa quello è un obiettivo però è un viaggio molto impegnativo quello e paradossalmente tutti pensano che sia impegnativo perché chissà che cosa trovi per strada no è impegnativo unicamente per una cosa perché devi fare i visti infatti è unicamente impegnativo per quello perché perché per fare i visti per una serie di paesi che tu devi attraversare il problema è che il visto ha una durata e una scadenza quando tu hai fatto un visto e sei perché per fare un visto magari ci metti un mese e il tuo passaporto è là cazzo nella repubblica del Mozambico nel consolato e te lo tengono un mese poi un altro mese un altro mese quando arrivi all'ultimo visto è scaduto il primo è scaduto e quindi non puoi tornare indietro esattamente devi rifar tutto quindi tu non puoi partire perché infatti chi fa quelle robe lì sta via figa un anno esatto per quello quindi o fai una roba che farò quando sarò in pensione che ci metto quattro mesi ma io tutta l'Africa da nord a sud che ci ho messo un mese e dieci giorni è stato l'apoteosi dell'organizzazione perché sono riuscito ad allineare tutto sono arrivato agli ultimi visti che i primi erano già ampiamente scaduti anche gli ultimi ero lì quindi quello è un bellissimo viaggio che mi piacerebbe fare e per il resto niente mi trovate sempre sui miei sui miei instagrammoni e i miei cosi commentate e non trattatemi male perché io sono bravo in realtà sei bravissimo se no non saresti al bazar atomico esatto grazie Rob ciao ragazzi grazie a voi è stato un piacere conoscerti piacere nostro questo è il bazar atomico il bazar atomico grazie a tutti